Bene, siamo qui nel salotto di Oliofficina e alla mia destra abbiamo il professor Giovanni Lercher. Chi segue ormai da dieci anni a questa parte Oliofficina Festival sa benissimo quanto noi valorizziamo le personalità che abbiano avuto nel corso degli anni valorizzato, messo in evidenza e dato il giusto valore a tutto ciò che riguarda il mondo dell'olio. Ecco allora il premio Oliofficina Cultura dell'olio assegnato al professor Giovanni Lercher. Peccato non poter stringerci la mano, non poter avere quei contatti che la vita precedente ci consentiva di fare in piena libertà. Io intanto leggo la motivazione. Ecco, con questa motivazione però ho bisogno di un foglio che sta sul tavolo, che ecco così in modo da poter leggere meglio. Lercher, accademico presso l'Università di Bologna e studioso di tecnologie degli oli grassi e derivati, ha contribuito a creare attraverso i suoi numerosi studi le condizioni per valorizzare al meglio tutte le inespresse potenzialità del comparto leario, apportando nuove conoscenze e contribuendo nel contempo alla formazione di un fondamentale e operoso nucleo di abili docenti, di esperti ricercatori e di competenti professionisti. Come dire, un vero sentito grazie, perché io sono un comunicatore da molti anni, non soltanto i dieci anni, anzi gli undici anni di Oliofficina, dieci anni del Festival, ma è molto importante, credo che sia fondamentale, dare rilievo a questi impegni, perché è determinante dare un segnale. Quando all'interno di Oliofficina ho creato uno spazio intitolato Goto Alimentare, questo spazio era destinato a delle biografie. Manca un dizionario biografico in cui emergano appunto tutti quei personaggi che hanno contribuito a dare una svolta non soltanto a un settore, ma a tutto quel mondo che ruota intorno a un settore. E la formazione è un momento molto importante e determinante. Ecco pertanto questo premio e purtroppo non possiamo procedere nella maniera consueta. Ma poi di questo andremo a parlare più avanti. Quello che invece voglio comunicare è soprattutto un altro aspetto. avere qui, diciamo, un professore di così grande portata, perché ci sono tante generazioni che sono passate e che hanno dato poi all'olio degli apporti molto positivi e questo è dovuto proprio a un'università, l'Università di Bologna. E con noi abbiamo anche un altro professore dell'Università di Bologna che è appunto Massimo Cocchi. Una università che effettivamente nel campo dell'olio ha dato dei segnali molto importanti. È stata un polo culturale di primo livello. È così? È così. Sono d'accordo su questo? È cesso, è cesso. Sono d'accordo su quello che hai detto, al di là delle complimenti che sono stati abbondanti rispetto a quello che io credo di meritare. Ma giustificatissimi. Anche se tu sei sempre stato tantissimo carino con me, quindi io non posso lamentarmi se non nelle esagerazioni. Diciamo che l'attività svolta nell'Università di Bologna sulle sostanze grasse per quello che riguarda il mio settore deriva dal capo dell'istituto che allora era il professore Umberto Pallotta e che essendo un chimico aveva impostato in facoltà d'agraria il corso di industria agraria che era appena nato perché esisteva la chimica agraria. La chimica agraria si occupava molto di più del terreno, i concimi, eccetera, che non dei prodotti derivati dalla coltivazione che poi andavano a essere trasformati, consumati, anche se le trasformazioni allora erano limitate, le trasformazioni di settore, quindi di piccole aziende in generale. Dopo l'industria ha preso mano su questo molto di più. Diciamo che questo ha plasmato la direzione. Io ricordo che ancora una cinquantina di anni fa circa il mio relatore di tesi disse se vogliamo scoprire qualcosa di nuovo bisogna che ci muoviamo a livello molecolare che vuol dire che oggi sarebbe ridicolo dirlo perché tutti si sono mossi in quella direzione e quindi fare previsioni del futuro diciamo che bisognerebbe andare ancora di più in settori che non erano particolarmente abili nell'affrontare gli aspetti molecolari intimi delle singole molecole. E questa è stata la fortuna, per il mio caso, perché ero stato destinato al settore delle sostanze grasse, allora era così chiamato, in cui l'olio d'oliva era una delle tante sostanze grasse stavano in quel periodo sviluppandosi moltissimo come è stato detto già gli oli da semi gli oli da semi erano una novità nel senso che non esistevano prima in quanto le tecnologie per produrli sarebbero state molto più costose di olio d'oliva perché bisognava partire da una matrice di origine spettiamo del caso del girasole in cui la calatide per tirare via i semini una alla volta a mano con le se non c'erano delle macchine inventate dopo la rivoluzione industriale ma molto dopo perché negli Stati Uniti erano negli anni 30 e in Italia negli anni 60 insomma per intenderci quindi il consumo deve anche far pensare che la differenza con gli oli d'oliva che erano qualche ci diciamo molti migliaia di anni consumati dagli esseri umani gli oli di semi erano consumati a livello settoriale in mancanze di alternative come l'olio d'oliva insomma come le olive per cui era una matrice di difficoltà enorme da un punto di vista tecnologico se non c'erano le macchine adatte perché questo portava a dei prezzi insostenibili non certo competitivi con l'olio d'oliva insomma allora tornando questo è una partenza che può far pensare cosa per il futuro possiamo prevedere è difficile fare previsioni su uno sviluppo che c'è stato in questi 50 anni a partire da quel periodo che vi ho citato chissà quante altre cose in tempi molto più brevi si potranno ottenere di sicuro ci sono dei punti fermi io ho fatto l'esempio quando mi è stato chiesto una cosa di questo tipo in un'altra sede del contatto dell'olio con le goccioline di olio dopo aver trasformato le olive con il primo step che è quello della macinazione delle frangiture questo tempo di contatto e la composizione di partenza è determinante nel dare quel tipo di prodotto che noi conosciamo al di là delle qualità che possono essere molto diverse in funzione della qualità della materia prima e di chi la lavora se ha delle tradizioni che non sono ottimali come quelle poi oggi sviluppate e acquisibili per cui credo che non si possa cambiare molto sul contatto olio-pasta poi ci saranno sistemi automatizzati che lo faranno in maniera molto meno costosa molto più efficace nel rendimento e quindi nei costi successivi in commercio però di sicuro dovremo tenere sempre presente che l'eccesso porta a un consumo di componenti antiossidanti perché il meccanismo di formazione dei profumi dei sapori è condizionato da questo contatto olio-pasta questo contatto olio-pasta si è esagerato consuma polifenoli perché sono meccanismi oxidativi che producono quelle sostanze profumate che verrebbero associate a una perdita poi di stabilità futura del prodotto e questo non è possibile perché se un olio è stabile come l'olio extravergine di oliva quello veramente buono è la sua prerogativa migliore perché io lo posso consumare pur cambiando perché è impossibile che gli equilibri non portino a piccole modificazioni nel tempo di sicuro la qualità sensoriale è una delle prerogative maggiori insomma quando noi lo assaggiamo lo odoriamo prima di assaggiarlo ci accorgiamo che c'è un abisso rispetto agli oli di semi e questo lo sanno tutti certo che chi gradisce oli poco diciamo dotati di caratteristiche sensoriali è più portato a consumare i semi dicendo che non dà alterazioni a ciò che mangia come invece potrebbe darlo l'olio d'oliva io sono sicuro che se sentisse degli oli buoni da olive probabilmente non direbbe la stessa cosa probabilmente ha sempre consumato olio d'oliva che era da vergognarsi se dichiarati extravergi e questo è un altro dei problemi perché nel tempo purtroppo con esigenze economiche diciamo mondiali e anche italiane si è tagliato dappertutto per risparmiare e tagliando dappertutto si è tagliato nei meccanismi di controllo dei prodotti oggi la maggior parte dei controlli viene sviluppata attraverso l'esame dell'edizione in etichettatura perché non costa quasi nulla se non il prelevo del campione e si può fare a tavolino senza bisogno di apparecchiature e di personale specializzato nell'analitica chimica e nell'analitica fisica e quindi è quello che si fa si denuncia su degli errori di etichettatura magari banali e poco significativi sull'eventuale frode insomma di frode è ben altra cosa quella che conta cioè di cattiva qualità venduta per buono in più questo si accavalla con dei meccanismi che coinvolge soprattutto a livello europeo quello che può dare come indicazione a livello io adesso ricordo faccio un esempio molto semplice fu chiesto se si poteva mettere una vergine cioè un olio d'oliva vergine in un olio extravergine se era legalmente accettabile se ovviamente chi ha risposto era tra l'altro ero uno spagnolo che notoriamente fanno degli oli di caratteristiche un po' diverse forse più scadenti delle nostre insomma per motivi poi facili da individuare non ci vuole un esperto per poter dire perché e questo che era alla direzione di questa struttura mandò una comunicazione dicendo se non si può dimostrare che è stato fatto puntini puntini cioè come si fa a dire se non posso dire che con queste analisi è stato fatto ecco il che non vuol dire che se io so per meccanismi di intercettazioni come è capitato coinvolto a livello di antifrode abbastanza recentemente c'era chiaramente l'indicazione che la stavano facendo questa procedura e a questa procedura se la stanno facendo io lo so anche se l'analisi con i metodi attualmente disponibili non con quelli futuri ma con quelli attualmente disponibili non posso dimostrare che sia stata fatta evidentemente è stata fatta lo stesso ecco quindi è illegale la realtà è che queste cose purtroppo sono ai limiti sempre tutto ai limiti della legislazione perché poi un buon avvocato può risolvere il problema lo stesso anche se evidentemente è negativo come secondo me dovrebbe essere quindi andare a dire cosa ci sarà in futuro secondo me molto sarà sulla pubblicità lo vediamo già adesso tutto quello che si vende lo si vende perché è apparso in televisione dai giochini per bambini a tutti i prodotti alimentari una ditta diventa famosa per aver investito moltissimo su questo tipo di attività che non sempre corrisponde anche se in qualche caso è così è veramente fedele a quello che poi è il risultato delle loro produzioni ma normalmente a me conoscendo alcuni di questi produttori e quindi sapendo che tipo di oli hanno in commercio insomma c'è da dire che bisogna stare attenti perché è un'arma a doppio taglio insomma andrebbe in qualche modo valutata la qualità e esposta in funzione della qualità vera la possibilità di dirlo a milioni di eventuali spettatori poi ci sono altre cose che si possono prendere in considerazione mi ero fatto una lista di importanza forse sono meno importanti una delle cose che è poco nota per esempio è che la raffinazione degli oli che sono diciamo incommestibili gli oli da semi per legge per essere venduti olio di semi di puntini puntini hanno il dovere di fare la raffinazione la raffinazione prevede una serie di step tecnologici in cui c'è una forte incidenza sulle caratteristiche delle materie che si stanno lavorando nel prodotto finale ottenute cioè cambia moltissimo e non è che cambi sempre in meglio quello che cambia in meglio è che vengono tolti i cattivi sapore i cattivi odori che sarebbero incommestibili da un punto di vista anche sensoriale per gli oli da semi almeno non tutti ma ci sono degli oli che per spremitura danno un buonissimo prodotto anche dagli oli da semi io ricordo il colza quando ancora c'era molto erucico e forse quando ce n'è come oggi molto meno è ancora meglio che era un po' piccantino come era appunto l'origine delle crucifere in generale di sensazione organo e sensoriale insomma con i prodotti che contengono queste sostanze e questa è una negatività quella della raffinazione perché va a incidere su tante innanzitutto si parte da dei prodotti che per essere lavorati anche con le macchine esistenti sono inevitabilmente a surmaturazione che significa che sono già stati minati in piccola o meno piccola misura a seconda del tipo di origine del seme minati sulla integrità ossidativa l'integrità antiossidativa non è più quella ottimale e quindi per togliere queste negatività si deve agire poi con delle scelte di condizioni tecnologiche che sono un po' ai limiti di è vero che siamo in essenza di aria nell'agire che è la deodorazione tanto per fare un esempio che è l'operazione finale che fa il buono apparente almeno del prodotto prima puzzava dopo non puzza più pur essendo l'acidificazione è stata eliminata perché è catalizzante le degradazioni più veloci eccetera alla fine il prodotto insomma ha perduto diverse cose che sono distillate perché lavorando a 4 mm di mercurio di pressione bassissima pressione e a temperature che raggiungono 180 190 spesso anche i 220 se la matrice è messa male perché è funzione della materia prima di partenza in quelle condizioni di stile della sostanza che sono poi utili per il nostro organismo per cui ha un valore nutrizionale un po' inferiore poi un po' e con magari il professor Cocchi può essere poi più specifico con un'interazione con l'organismo in carenza di certi componenti che se ne sono andati che l'olio d'oliva è extravergine soprattutto e il vergine non hanno perché non devono essere sottoposti a raffinazione allora voi capite che fare delle previsioni diventa sempre più complicato in funzione della conoscenza del consumatore se il consumatore attraverso le scuole di assaggiatore come vengono fatte purtroppo in misura dimensionale così ridotta da non poter istruire tutti insomma come si fa con le iniezioni antivacinali sulla popolazione per regola per cui poi c'è qualcuno che dice ma quando è amaro e brucia in gola io non lo sopporto se sapesse che la sua salute dipende da questi due componenti probabilmente queste due sensazioni probabilmente andrebbe a cercare quelli che ne hanno di più di altri ecco però chi glielo dice se glielo dico io ha un valore un po' così bisogna che glielo dica qualcuno che da un punto di vista biologico biochimico abbia questo tipo di possibilità di convincimento maggiore io sono chimico mi occupo di chimica analitica mi sono occupato prevalentemente di chimica analitica ultimamente proprio in collaborazione con il biochimico che è presente in questo momento mi sono appassionato a uno degli argomenti che nel caso mio specifico erano collegati con le esperienze di analitica di laboratorio pensate le molecole che noi studiavamo perché avevamo i mezzi in crescita capaci di poterli studiare sempre meglio che erano la cromatografia e la cromatografia in particolare il gas massa oltre la cromatografia semplice che potevano essere dare delle certezze sull'identificazione della molecola stessa isomeri di posizione quindi piccole differenze comprese e sempre di più capaci di avere delle certezze delle composizioni in modo tale da non poter essere messe in discussione successivamente e che quindi in caso di frodi in caso di controlli in caso di studi di composizione utili per l'organismo per chi poi mangiava prodotti elementari non ci confondiamo di prodotti elementari mica di altre cose ecco che con questo c'è da prevedere che sarà sempre più esasperata e importante l'evoluzione delle tecniche di controllo io penso che ci siano poi se le tecniche di controllo non hanno associato dei laboratori con degli operatori che ci lavorano le cose ovviamente sono vanificate a valle più che a monte noi possiamo fare tanta propaganda su questo ma quando c'è un giudice ha bisogno di dimostrare che stanno facendo delle frodi perché ha avuto intercettazioni che glielo dicono si deve poi abituare a interpellare quelli che e quelli che se non ci sono più perché i laboratori di controllo ufficiali non sono stati tagliati nel quindi è chiaro c'è il buio bene grazie che è stato illuminante anche questa visione retrospettiva e prospettica il futuro è sempre incerto però d'altra parte c'è da dire che soltanto osservare i 60 anni dell'extravergine anzi quest'anno ne compirà 61 dall'introduzione della categoria merceologica sicuramente abbiamo un prodotto diverso quindi è migliorata la qualità è cresciuta la qualità dei consumi nel senso che il prodotto è molto segmentato e sicuramente di studi ce ne sono stati tanti per esempio il progetto Oleum sta a dimostrare che si sta portando avanti proprio un percorso veramente virtuoso e infatti alle 16 saremo proprio a parlare con la professoressa Galina Toschi e con altri proprio di questo aspetto di questo aspetto di questo aspetto di questo aspetto